Una storia ancora aperta, una ferita tornata di recente attualità dopo le sentenze contraddittorie che hanno fatto molto discutere. Lettera dal futuro è il cortometraggio che ha aperto il festival scrittura immagine ideato e organizzato dall'associazione Egno Flaiano. Sullo schermo quattro giovani attori pescaresi raccontano le giornate precedenti, il terremoto del 6 aprile 2009. Quella notte morirono 309 persone, di cui 54 studenti universitari. La pellicola è stata realizzata dall'associazione Aternum di Pescara e dalla Onlus Avus 2009, composta da 12 genitori di ragazzi deceduti sotto le macerie in quella drammatica notte. Presente è la proiezione con l'autore, Umberto Bracili e il regista Pina Sorgi, i quattro ragazzi protagonisti, Lorenzo Cozzi, Francesca Di Berardino, Patrizio Giuliani e Letizia Pomante. Insieme al loro Carmine Perantuono, direttore di Rete Otto, che nel corto interpreta se stesso e parte del lavoro è stato girato negli studi televisivi con la collaborazione tecnica di Andrea Di Fabio e Danilo Cinquina. Sentiamo ora Umberto Bracili. Si parla di dolore, si parla di ragazzi morti, si parla di ragazzi che stavano lì, stavano in casa perché erano stati tranquillizzati da una protezione civile che pensava di risolverla con un bicchiere di buon vino e quindi tutto questo per noi, per tutti e per i genitori soprattutto è importante perché la storia dell'Aquila non si è ancora chiusa e la parte giudiziaria lo dimostra a tal punto che ci stanno dando i numeri. Per esempio Nicola Bianchi, il figlio del presidente Avus che è morto sotto le macerie, è stato ritenuto colpevole al 100% di non essere uscito. Quando la protezione civile e la commissione ai grandi rischi invece diceva ragazzi state tranquilli, state a casa, che questa è tutta energia che sfogherà, diciamolo così nel termine tecnico e tutto questo 14 anni dopo continua e noi continuiamo come Avus, mi entro nell'associazione anche io, continuiamo con un premio di laurea che da 10 anni dà una somma, una buona somma alla migliore tesi sulla prevenzione sismica di ragazzi universitari.